Ciao a tutte e tutti e intanto grazie per averci dato la possibilità di ascoltare i ricordi di tutti voi. Quello che vi leggo oggi è un contributo scritto dalle compagne del collettivo veneziano LISC. Molte di noi non hanno mai incontrato Toni, ma la sua è stata comunque una presenza costante nelle discussioni e nei testi che studiamo. Il nostro è un timido tentativo di cercare il senso di una perdita di un punto di riferimento così importante per la nostra organizzazione e forse soprattutto un invito a fare nostre le parole di chi ha parlato prima di noi e un'occasione di rilancio. Ciò che ci è stato tramandato da compagni e compagne più grandi rispetto alla tradizione dell'operaismo e al metodo della conricerca è che non può esistere analisi politica senza pratica e cioè senza lotta e viceversa. Ciò che ci è stato tramandato da Toni è la comprensione che il pensiero serve a tracciare delle linee di fuga da una realtà capitalista che ci annulla, ci annienta come singolarità, ci aliena e ci mette in competizione le une contro gli altri. E il pensiero è un momento della lotta, non separato da essa e serve, come lui stesso diceva, a organizzare una disappartenenza alla società capitalista in una macchina di trasformazione del singolare in collettivo, dal disagio individuale alla decisione comune. E la costruzione collettiva di teoria vive nella prassi comune. E come Toni, gli operaisti e i compagni degli anni 70 insegnavano, la costruzione di relazione politica non è mai un fatto automatico. L'attualità della conricerca resta, anche se la società non è più quella degli anni 70. Rimane l'indicazione di analizzare la composizione di classe, di riuscire ad analizzare in essi tra composizione tecnica, cioè l'organizzazione del lavoro vivo da parte del capitale e la composizione politica, ovvero i comportamenti e i modi d'essere della classe in potenza. Io ho avuto l'occasione una volta di incontrarlo per un paio di ore a Venezia e è stata la lezione più emozionante a cui abbia mai assistito. E di quella volta condivido due suggestioni con questa assemblea. E la prima è che ho riconosciuto nella Porto Marghera che descriveva la mia casa, le radici profonde della nostra organizzazione. E la seconda più importante per me è che, sentendolo raccontare dei suoi anni di militanza e dei volantinaggi davanti alle fabbriche, mi sono accorta che Toni aveva sicuramente una sensibilità e una capacità di analisi straordinaria, ma non era l'eccezione, era uno di noi. Era una singolarità a disposizione di una moltitudine che lavorava per il bene comune. E credo che la cosa migliore che possiamo fare per tenere vivo il suo ricordo sia quello semplicemente di tornare nelle nostre aule, nelle nostre assemblee, nei nostri centri sociali e continuare a sovvertire l'esistente a partire dall'Accademia Neoliberale. Grazie. 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 Grazie.